È nata per la volontà dell'Europarlamentare di Forza Italia, Lara Comi, l'associazione politico-culturale Siamo Italiani, che sarà presentata domani, venerdì 15 luglio, presso il Parco Teldora a Pozzilli. Un'iniziativa che si colloca idealmente all'interno della cornice dei liberali e moderati del Partito Popolare Europeo e che viene sintetizzata dalla fondatrice come l'Italia in cui credere, l'Italia in cui investire, l'Italia in cui rinascere. Un modo dunque per separarsi dal Partito di Forza Italia. A partire dalle ore 18, a Pozzilli, insieme all'europarlamentare forzista, ci saranno altri due esponenti europei, il molisano Aldo Patriciello e il campano Salvatore Cicu. Faro dell'associazione saranno i valori della Costituzione italiana e i principi dell'Unione Europea. I ben informati vedono questo appuntamento come un inizio di un nuovo posizionamento dell'area politica che fa riferimento all'europarlamentare Aldo Patriciello. Oltre alla riorganizzazione di un nuovo centro moderato nazionale e regionale, insomma ci sarebbe la volontà di contare di più nelle prossime elezioni regionali molisane.